L'emicrania è una malattia tanto diffusa quanto per molti ancora ignota nei suoi dettagli più importanti. Ne abbiamo parlato a Milano con il professor Bruno Colombo. Professore quali sono le tre cose principali da sapere sull'emicrania? Prima di tutto considerare l'emicrania come una malattia. Pensiamo che in Italia ci sono almeno 6 milioni di persone che sono affette da questa forma e di queste almeno il 30-40% dice di soffrire di 3-4 attacchi emicranici al mese. Se pensiamo cosa vuol dire avere un attacco di emicrania? Vuol dire avere un dolore, un dolore veramente molto forte, viene catalogato come intenso, un dolore che si associa anche a nausea, si associa a vomito, si associa a disturbi della vista, il paziente ha fastidio per la luce, il paziente tende a stare quindi al buio, non vuole sentire rumori, non vuole sentire odori, è estremamente disabilitante. Se pensiamo che questo tipo di dolore può durare anche 72 ore e quindi pensiamo a un paziente, una persona che ha per 3-4 volte al mese un attacco di questo genere vuol dire avere almeno 7-8-10 giorni al mese nei quali non si può assolutamente vivere. Quello che io dico è l'emicrania non è una malattia che uccide ma è una malattia che non fa vivere. Si rendono conto i pazienti che soffrono di questa patologia perché c'è un assenteismo legato proprio all'impossibilità di lavorare che porta via almeno 10-12 giorni di lavoro all'anno, c'è un presenteismo, le persone cercano di andare a lavorare senza riuscirci almeno altri 12-15 giorni all'anno, quindi come costo sociale enorme bisognerebbe cercare di vedere ancora questa patologia come un qualcosa da curare, da curare proprio a livello anche di recupero di questi pazienti per una vita normale, lavorativa, sociale ed affettiva. Cosa si può fare quindi? Le cure esistono, ci sono delle cure sia sintomatiche ovvero sia utilizzare farmaci per cercare di fare passare all'attacco e sono farmaci specifici da questo punto di vista ma soprattutto la cosa più importante sono le cure preventive, cioè riuscire a utilizzare dei farmaci che riescano a ridurre di gran lunga le frequenze e ce ne sono, ce ne sono di nuovi soprattutto. Questi farmaci vengono definiti come anticorpi monoclonali perché sono dei farmaci di ingegneria genetica nei quali si va a lavorare su alcune molecole particolari che sono molecole che provocano l'attacco di mal di testa. Ebbene questi farmaci bloccano queste molecole, fanno in modo che non possano essere quindi attivate, avere queste sostanze particolari in numero molto basso fa sì quindi che sia impossibile che il mal di testa cominci e che il mal di testa si sviluppi. Questi farmaci sono stati già sperimentati, sono già in commercio, alcuni ne stanno uscendo, il risultato è estremamente valido. Se utilizzati da pazienti in condizioni particolari, ovvero sia pazienti ad alta frequenza di attacchi e pazienti che hanno già sperimentato altri farmaci con insuccesso, questi farmaci riescono a poter ridurre di gran lunga le frequenze e di poter quindi restituire il nostro paziente una vita normale.